Bentornati amici ludici, oggi faremo il disinscatolamento di questo Rumble Nation, un gioco edito da Studio Supernova, aspettiamo che mettiamo a fuoco, 2-4 giocatori dai 10 anni in più di età e 30 minuti di durata. Un semplice ed intrigante gioco di maggioranze. Apriamo il cellophane che ho sempre pre-inciso per favorire questa fase. Apriamo la scatola, anche questa, di dimensioni compatte e utili all'archiviazione. Abbiamo due regolamenti, uno in francese e uno in italiano, con la lista classica dei componenti. Un regolamento di otto pagine. Ah, ci sono anche dei simpatici sceni storici sui vari palazzi e castelli citati nel gioco. Sì, 30 minuti, un gioco molto molto semplice, che si spiega e si gioca velocemente. Infatti vi rimando al video di Teo sul suo canale. Qui abbiamo i pochi segnalini, il tabellone rettangolare con, aspettate, ecco qua, con la divisione delle varie regioni, le varie zone, e con il riepilogo per l'utilizzo dei dadi, perché ci sono anche dei dadi da rollare e utilizzare. Qui abbiamo le carte, le carte azione, che sono in una comoda bustina che si apre velocemente e che le fa riporre altrettanto velocemente nella scatola. Ah, non sono telate però hanno una bellissima resa al tatto. Ok, abbiamo i classici tre dadi, abbiamo i segnalini giocatore in legno e poi abbiamo i cubi che sono l'anima di questo gioco, per le maggioranze, che non sono i classici cubetti micro ma hanno, vedete, una dimensione un po' più larga, aspettate che non si mette a fuoco, ecco qua. E questo era Rumble Nation.